Buongiorno, come la sei? Come stai? Tutto bene. Bel lavoro. Grazie, bel lavoro. Adesso chiamo la cantaria, come viene? Grazie, lasciata. Hai visto? Hai fatto film. Questa piccola è stata fatta un po' che si è cercato di tirare il silenziale. Poi la persona che va piano, dentro, che viene guidato, è stata fatta un po' che riesce a ottenere la porta. E adesso, come andiamo a usare la porta. Com'è? Ah, non è un cibo. Non è un cibo. Non è un cibo. Ah, non è un cibo. E se cibo. Grazie. Grazie. Grazie.